La soluzione della crisi dell'Audax Cervinara sembra essere avviata ad un esito favorevole. Segnali positivi sono venuti fuori dall'atteso incontro tenuto presso il Comune tra il Sindaco Caterina Lengua accompagnato da assessori e consiglieri ed il Presidente della squadra caudina Michele Giordano. Il lavoro portato avanti dal Sindaco Lengua e dagli amministratori ha creato le basi per trovare la soluzione necessaria a rivedere ai nastri di partenza della prossima stagione di eccellenza un Cervinara forte e competitivo sempre targato Michele Giordano. Per quanto riguarda il campo di gioco, stande all'indisponibilità dello stadio Canada Cioffi, sarà il Sindaco Caterina Lengua a farsi il carico di contatti con gli amministratori comunali dei paesi vicini per la messa a disposizione di un impianto. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, il Presidente Giordano ha detto che non si è ancora dedicato a questo aspetto, ma è pronto ovviamente insieme al direttore generale Chico Vitaione che aspetta soltanto il via libera per la costruzione della nuova rosa. Il Cervinara, dopo aver visto sfumare il sogno della Serie D nello scorso campionato, è pronto a rimettersi in gioco ai nastri di partenza, soprattutto con una formazione competitiva che dovrà sciogliere anche il nodo allenatore dopo l'addio imminente arrivato da parte del tecnico Francesco Messina.